Il tema dell'accoglienza ai migranti è all'ordine del giorno della Cronaca Nazionale e se la protesta della piccola cittadina di Gorino nel Ferrarese ha richiamato l'attenzione nazionale sul dibattuto argomento dell'accoglienza, da Ravenna si solleva la reazione della Lega Norda. Nei giorni scorsi infatti sono arrivati a Marina di Ravenna 26 richiedenti asilo politico, ospitati in un albergo della cittadina balneare e per il prossimo sabato i leghisti hanno annunciato un presidio davanti alla struttura ricettiva che ospita i profughi. Nel territorio provinciale Ravennate sono stati sino ad ora ospitati 1.100 richiedenti asilo e alla polemica in merito al fatto che siano ospitati in strutture alberghiere della costa, sia dall'amministrazione comunale che dalla prefettura, viene sottolineato come si tratti di un'emergenza temporanea e come si voglia rispettare la scelta di non accogliere in alberghi del litorale. A Cervia sono stati invece sistemati nelle ex colonie e il numero attuale di 120 persone sembra destinato ad una crescita. Ricordiamo poi che tutti i comuni in base all'accordo con le prefetture gestiscono direttamente l'arrivo dei richiedenti asilo ad esclusione per il momento del comune di Ravenna.